Il 29 e 30 settembre prossimi, sulle strade agrigendine, tornano a rombare i motori degli equipaggi partecipanti al 21esimo Fabaria Rally, 26esimo Rally dei Templi. La competizione, valida per il challenge nazionale Ottava Zona, è organizzata dal Team Pro Racing di Favara. Le iscrizioni a rally sono ufficialmente aperte e tante sono le novità introdotte. Prima fra tutte, il luogo di partenza fissato per le ore 19.31 di sabato 29 settembre dal viale della Vittoria di Agrigento. Nove saranno le prove speciali da percorrere, tra cui anche la classica crocca. Altra novità introdotta dagli organizzatori, la partecipazione alla competizione delle auto storiche.